24 ore per salvare il club dal fallimento. Tanto è il tempo che manca prima della scadenza imposta dal Tribunale di Catania per reperire i 600.000 euro necessari al calcio Catania per terminare la stagione. Ieri l'incontro della Sigi è servito per mettere sul piatto tutte le possibili alternative. Due sono gli scenari al momento possibili. Versare la cifra per intero reperendo anche sponsor privati oppure far intervenire soci chiedendo uno sforzo ulteriore ma necessario per sanare alcune scadenze. Il Tribunale valuterà ogni passo ma di sicuro non ci saranno sconti. A Messina la cura a Raciti è durata appena due giornate. L'uomo gentile ha messo in riga la squadra dopo il periodo travagliato con Capuana e Sullo ma la dirigenza avrebbe rotto gli indugi optando per il ritorno in panchina di Raffaele Novelli, il tecnico artefice della promozione dalla D alla C. Torna lui in panchina dopo appena sei mesi. E così la CR cambia ancora. Quarta svolta in panchina. Raciti torna alla Beretti e arriva a Novelli. Manca l'ufficialità ma ormai ci siamo. La compagina pelleuritana riprenderà gli allenamenti in vista del derby contro il rosenero il primo gennaio ma permangono i rebus legati al management e alla guida tecnica. Tutto dipende dalla questione nel caso in cui Sciotto e l'omonaco decidano di ricuscire lo strappo delle scorse settimane. Contrariamente invece Novelli sarebbe pronto a tornare sulla panchina giallorossa. Oggi il patron Sciotto comunque dovrebbe rilomper gli indugi.